E' vero che lei faceva l'autista di Michele Placido? No, assolutamente. Io sono venuto a Roma e avevo in tasca 200.000 lire. Facevo l'attore e ho debutato con Dacia Marini. Ma tu faresti bene a fare l'attore come da protagonista? Lì ho conosciuto Michele Placido, che siamo amici a me da 30 anni. Poi ho capito che non volevo fare l'attore perché non sarei mai diventato una star. E ho comprato i diritti di Mary per sempre, questo libro. Mi andai da Nanni Moretti, che faceva colazione da Antonini, a Via Sabotino una domenica mattina d'estate. Hai incontrato a me Michele Placido, che è l'autore del libro. E allora a un certo punto Michele ha detto Ah, Nanni, guarda che abbiamo questo libro, vogliamo fare questo film perché non vuoi apprezzare il libro. E ha detto all'autore, ma tu ti fermi a parlare con questi due cialtroni? E' sempre stato gentile e generoso con noi Nanni. Questa è stata una delle migliori battute che ha fatto. E poi trovai Claudio Bonimento che faceva il produttore e ha detto lo faccio io. E da lì piano piano ho incontrato mia moglie e ho iniziato a produrre il cinema. Io sono stato comprato da Mediaset perché volevo comprami di Agostini. Quindi un imprenditore, se è capace si compra. La Tau 2 è controllata al 100% da Mediaset? La Tau 2 è assolutamente controllata dal punto di vista finanziario, ma siamo completamente liberi di fare tutto quello che vogliamo. A proposito di libertà, la farebbe una fiction su Dell'Utri? Sì. Perché? Non dobbiamo capire. Vedi le storie, come diceva il buon Rosi, vanno sedimentate nel tempo. Tra vent'anni forse sicuramente qualcuno farà una storia. E per Silvio si è battuto contro tutti perché tutti dicevano quello che è un uomo di sinistra non va comprato. Non di sinistra. Però dicevano perché dovete comprare Valsecchi? E lui invece ha detto voglio Valsecchi perché Valsecchi mi fa odio, amo le cose che fa. E quindi ha deciso di comprarmi. De Agostini mi ha offerto tanti soldi, ma tanti tanti soldi. Quanto ha prodotto l'accordo in soldoni? Non mi ricordo. Ho perso tutto il tempo. Il fatturato dell'ultimo anno che ha prodotto Tau 2 per Mediaset? Il fatturato è in vicino ai 40 milioni, 45 milioni. Con il cinema siamo scusi 55, sì. In che rapporti hai con Berlusconi? L'ho visto tre volte nella mia vita, in 25 anni. Quando ho venduto la mia società ha voluto incontrarmi per sapere com'ero. Un'altra volta era preoccupato proprio per i suoi cari d'ascolto, cosa fare per le televisioni, perché noi viviamo di audience. Ma quando era premier? No, subito dopo. E poi l'ho incontrato una volta sul successo di Zalone perché era entusiasta di questi 50 milioni e quindi ha voluto naturalmente vedere questa società che lavora molto bene e che comunque, dopo essere stata acquisita dal gruppo, ha portato solo con tre Fincetto, 140 milioni al gruppo. Per Valsecchi è meglio sbancare al botteghino o vincere Leone d'oro a Venezia? No, credo che sia meglio pagare la botteghino a dire di tutto, perché insomma noi facciamo il cinema e si fa per il grande pubblico. Che ecco come un attore così importante, un comico, intelligente, graffiante, che tutti ci invidiano perché il film poi sarà fatto in Francia da Gadmalet l'anno prossimo. Solo le cantinelli lo faranno a Parigi. Cosa vota Valsecchi? Destra, sinistra? No, Vestra l'ho mai votata nella mia vita. A casa mia mio padre è stato deportato a Dachau, si diceva anche l'unità a casa. Io ho fatto una cena per Marina, a casa mia, per eleggere Marino. Nel 2011 il governo Monti circolava il suo nome come sottosegretario alle telecomunicazioni. Era una proposta concreta? Guardi, era una proposta che c'era, ma io dico sempre a filet somestè, io faccio il produttore. Fare bene un lavoro è già tanto nella vita, sai? Fanne due, è molto complicato. Se devi fare il politico devi smettere di fare il mio lavoro. Cosa ne pensa del nuovo premier Matteo Renzi? Guarda, Renzi l'ho conosciuto, ha avuto un'altra casa, abbiamo parlato a lungo. Lo trovo un uomo molto capace, con grande energia, spero che ce la faccia, ha capito bene dove sta il problema. Il problema sta nella burocrazia, ma io credo che Renzi ce la possa fare. Io mi auguro, perché l'ultima carta che abbiamo è quella di Renzi. Insomma, cuore a sinistra, portafogli a destra? Noi li vogliamo da sinistra poveri? Noi vogliamo che la sinistra diventi ricca, non essere poveri. Per me lo faccio io, io sono un imprenditore. Se fosse un imprenditore povero mi interrogarai tutti i giorni perché faccio l'imprenditore. Noi dobbiamo raccontare un paese attraverso le nostre storie. Ha fatto discutere il film tv su Totò Riina. Come risponde a chi l'accusa di aver santificato la figura del boss di Corleone? Ha una risata, una bella risata. Mi fanno ridere questi. Forse sono collusi questi che dicono questo. Raccontare il paese vuol dire santificare una persona. Proprio dopo domani arrivano due inglesi insieme al grande produttore Zemeckis che vuole fare il capo di capo in America. A che punto è il film su Federico Aldrovandi? Abbiamo scritto un film su Aldrovandi. Abbiamo incontrato più volte la mamma di Aldrovandi, una donna molto coraggiosa, ed era un film su questa donna che si batte sulla verità del figlio. Ed era una storia straordinaria. Il film lo dovevo fare con Daniele Lucchetti. E poi dovevo capire per quale televisione farlo quel film lì. Non so se è un film giusto per Canale 5. Doveva fare il film su Massimo Troisi. Il progetto si è bloccato. Film di Troisi, no? Non l'abbiamo fatto. Perché? Perché se la famiglia non è d'accordo di fare un film, ma perché lo devo fare? Se gli amici non sono d'accordo, ma perché devo fare un film? Un film su un personaggio è una storia difficile da raccontare. Abbiamo fatto Ambrosoli perché comunque poi Anna Lore Ambrosoli era d'accordo di fare questo film. E mi ricordo a un certo punto del film portò il cappotto di Giorgio Ambrosoli e lo diede a Lorenzo Bentivoglio e lui si mise il cappotto. Io sto facendo un film sul Papa. Sto scrivendo un film sul Papa. Inizierò il film quest'estate, ad agosto. Per la regia di Lucchetti, perché abbiamo un contratto come Aldrovandi, faremo questo film insieme. Quando c'era Obama, tutti volevano andare alla messa del Papa. E lui dice due cose fondamentali, no? Per i piccatori ci sarà il perdono per i corrotti mai. E tutti i politici che si guardano come se non rivolgessero le cose a lui, ma al vicino. Questa è una scena straordinaria, no? Bellissimo. L'abbiamo a cambiare la scenaравione sentrisse. Cosa? Grazie a tutti.